l'ultimo weekend del festival le vie dei tesori oggi domani ai 28 monumenti visitabili si aggiunge il teatro vittorio emanuele tra le curiosità di quest'anno la cappella delle ritme del duomo il pozzo di sant'antonio del tempio di san francesca l'immacolata il museo del santuare di montanto e la medievale chiesa di santo stefano a salice sarai